Dall'interessamento all'accordo il passo è stato breve. Lambrosia Biceglie ufficializza l'arrivo in maglia nera azzurra di Ivan Nascarponi, esterno di 28 anni, cresciuto nel Siena che fu società con la quale ha vinto tre scudetti a livello giovanile e ha prodato in Puglia tre stagioni fa a San Severo dove ha disputato due campionati di Lega Silver e uno nella divisione nazionale B. Torneo nel quale si ritaglierà un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione, la quarta in questa regione con la maglia dell'Ambrosia Biceglie che aveva puntato su di lui per cominciare a sostituire le partenze di Andrea Storchi e Valerio Corvino. Quello di Scarponi è il primo arrivo dopo le conferme di Drigo, Torresi e Gambarota oltre al tecnico Pasquale Scocci Marro. Le prime operazioni di mercato danno forma alla prossima stagione della Palacanestro che in Puglia avrà il solo brindisi nei primi tre campionati nazionali. La squadra del riconfermato Piero Bucchi esordirà in casa nella prossima Serie 1 sfidando Pesaro. L'ambizione per i Messapici è quella di ripetere il cammino della scorsa stagione migliorando il risultato nei play-off scudetto. Il resto del basket di casa nostra si muoverà tra Serie C nazionale e Serie C regionale. Da questo torneo dovrebbe ripartire la Palacanestro Molfetta che intanto saluta in maniera definitiva coach Giovanni Gesbundo e con ogni probabilità il basket corato dopo la cancellazione del basket nord-barese durato un paio di stagioni tra divisione nazionale B e Lega Silver. Grazie. 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 Grazie.